Ciao a tutti, siamo nel laboratorio di Chebana di Ilaglio, dove non si fanno solo lezioni, ma in questo caso è uno spazio condiviso, aperto agli allievi, per poter progettare ed impostare anche composizioni molto grandi come questa per eventi e manifestazioni. Con me c'è Veronica, che è una melieva che ormai ha raggiunto livelli di Chebana molto alti e ci presenta e vi spiega che cosa è questo paesaggio. Questa è una composizione che utilizzeremo come allestimento esterno ad un paviglione che verrà utilizzato per il fuorisalone e rappresenta il paesaggio sardo perché è un paviglione che verrà poi trasportato in Sardegna e vissuto proprio dai coinpaesani. Voglio rappresentare l'ambiente sardo con una parte di terra che rappresenta la parte collinare, una parte di sabbia che è la spiaggia e la parte d'acqua che rappresenta il mare e con questa climax in altezza vuole appunto rendere omaggio quello che è di Chebana. Un saluto a tutti e alla prossima, ciao! 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 Ciao!